Gli ultimi sviluppi in Libia e in particolare l'escalation militare sono motivo di forte preoccupazione per l'Italia, così come lo sono e devono esserlo anche per tutta l'Europa e per l'intera comunità internazionale. Non vi sono interessi economici o geopolitici che possano giustificare derive militari e in ultima analisi il rischio di una guerra civile. Dobbiamo purtroppo constatare che talvolta la stessa comunità internazionale invia segnali non univoci alle forze libiche nonostante il forte impegno delle Nazioni Unite sul terreno. Monitoriamo naturalmente di ora in ora le condizioni di sicurezza nel paese ma finché queste ultime ce lo consentiranno intendiamo rimanere al fianco del popolo libico e continuare a lavorare in prima linea per assicurare una transizione sostenibile. Sono forti del nostro approccio inclusivo che è sempre stato inclusivo, sempre stato improntato al profondo rispetto della popolazione libica e direi anche forti di un senso di responsabilità che in questione si acuisce perché ci deriva dal fatto direi oggettivo che siamo tra i pochi paesi stranieri che hanno una credibilità che li pone in condizione di interloquire con tutti gli attori libici. Urge dunque lavorare innanzitutto in direzioni di un cessato il fuoco e di un'immediata interruzione della spirale di contrapposizione militare preservando l'integrità di Tripoli e la distensione sul resto del territorio. Si tratta di una strada che riteniamo obbligata per ridare spazio al dialogo politico e ricostruire un minimo di fiducia tra le parti ai fini di un processo credibile, di un processo sostenibile.